In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Maria Sede Sapienzie, ora Pronobis. Benvenuti cari fedeli al commento del Vangelo di domenica prossima. Domenica prossima è la terza, terza domenica dopo Pentecoste. E il Vangelo è il brano di San Luca, capitolo 15, versetti dal primo al decimo, dove si parla della pecorella smarrita e dell'altra parabola che è la dramma perduta. Questa domenica cade proprio dopo la festa del Sacro Cuore di Gesù, quindi abbiamo appena meditato e celebrato la misericordia, le viscere di misericordia di nostro Signore Gesù Cristo per l'umanità, la sua opera di redenzione accompagnata da un amore senza limiti. E queste due parabole, queste due parabole che fanno parte soltanto del Vangelo di Luca, non le troviamo in altri Vangeli, come del resto anche la parabola del Figlio al Prodigo, che è sempre nel capitolo 15 di San Luca. Sono le tre parabole della misericordia che soltanto questo evangelista riporta. Mi trovo in un parco pubblico e ho soltanto con me questo messale, questo messale da viaggio. Ecco, non è un messalino. Il messalino si dà ai fedeli, lo tengono in mano i fedeli durante la messa. Il messale si tiene sull'altare. Naturalmente ci sono messali da altare che sono grandi, come senz'altro avrete visto ancora, e ci sono messali da viaggio che possono essere contenuti in una valigia, in una borsa, per celebrare la messa dove un sacerdote si può trovare. Questo è un vecchio messale da viaggio degli anni Trenta. E il Vangelo è questo, lo leggo in latino, ma è molto comprensibile. In illo tempore erant a propinquantes a diesum pubblicani et peccatores, ut audirent illum. Et murmurabant farisei e scribe... Ecco, il vento mi gira le pagine, così è sempre più difficile. Scusate. Grazie. Prima non c'era. Vediamo se trova una posizione decente. Et murmurabant... Eh sì, il sole. Farisei scribe dicentes quia ic peccatores recipit et manducat cum illis, et aeta dillos parabola mistam dicens, quis ex vobis homo, qui abet centum oves, et si perdiderit unam ex illis, non ne dimittit non aginta novem in deserto, et vadit ad illam que perierat, donec invenia team, et cum invenia riteam imponit in numeros suos gaudens et veniens domum. Convocat amicos et vicinos dicens illis, congratulamini miiquia inveni ovem meam que perierat. Dico vobis, quodita gaudium erit in cielo super uno pecatore penitencia magente, quam super non aginta novem justis, cui non indicent penitencia. Autque mulier, ac abens dracmas decem, si perdiderit dracmam unam, non ne accendit lucernam, et everit domum, et querit diligenter, donec inveniat, et cum invenerit, convocat amicas et vicinas dicens, congratulamini miiquia inveni dracmam, quam perdideram, et adico vobis gaudium erit coram angelis tei, super uno pecatore penitencia magente. Ecco le due parabole della... Vi faccio vedere un po' di... Purtroppo mi sono nascosto dietro a delle canne per non essere disturbato, il parco è pieno di bambini che saltano e giocano, non sarebbe stato possibile fare il commento. Dicevo, le due parabole della dracma, della moneta, che la donna perde, perciò ribalta tutta la casa per poterla trovare. Una volta trovata, chiama le vicine, le amiche, per fare festa con loro. E poi la parabola della pecorella smarrita, che poi è uguale, nel senso che il pastore va a cercarla finché non l'ha trovata, fa di tutto, se la mette sulle spalle, fa festa con gli amici e i vicini. Sono parabole che sono fotocopie l'una dell'altra. Diversa e molto più profonda è la parabola del figlio al prodigo. In ogni caso, queste parabole ci parlano... c'è qualcuno che mi telefona, grazie, proprio in questo momento. Queste parabole ci parlano dei sentimenti del cuore di Gesù. Come vi dicevo all'inizio, questa domenica è celebrata appena dopo, appena dopo, la festa del Sacro Cuore. Quindi vediamo la ricerca affannosa, la ricerca instancabile, la ricerca instancabile del cuore di Gesù che va in cerca delle anime che si perdono. Ribalta la casa, la donna ribalta la casa tutta quanta e il pastore va a cercare in ogni luogo dove si può essere perduta questa pecora. Quindi la ricerca instancabile, la pazienza nel ricercare l'anima, dell'andare in cerca dell'anima, e poi la gioia, la gioia incontenibile, la gioia incontenibile del pastore, della donna che ha trovato, una gioia che vuole essere condivisa, condivisa nella chiesa, tra i fratelli. Due espressioni potremmo ricordare. ricerca paziente e instancabile del peccatore, dell'anima perduta, gioia incontenibile dopo averla trovata. E poi potremmo aggiungere anche che queste anime che vengono trovate e che vengono riportate nell'ovile sono l'oggetto di un amore straordinario. C'è più gioia in cielo per un solo peccatore che si converte e fa penitenza, perché è sottolineata anche questa parola, convertire non vuol mica dire smettere di frequentare i luoghi del mondo, cominciare a frequentare la chiesa, no, non è sufficiente spostarsi, cambiare luogo, bisogna proprio fare penitenza, quindi cambiare il cuore, le intenzioni, la vita stessa di una persona, quindi la conversione è questa, non basta una doccia e si è puliti e via che si va, no, la penitenza è un cammino lungo, chi ha provato questo lo sa molto bene, è un cammino che richiede sacrificio, ma è anche pieno di amore e si sperimenta anche Gesù che ti prende sulle spalle come la pecorella, questo è vero, si sperimentano gioie straordinarie, l'amore del Signore e la festa del Paradiso, c'è più gioia in cielo, quindi gli angeli, i santi, Maria Santissima che dal cielo vedono questa anima, gioiscono, questa anima che sulla terra si allontana dal peccato, dai peccati e comincia ad agire in un altro modo secondo la legge di Dio, secondo il Vangelo di Gesù Cristo, ecco che nel cielo per quest'anima c'è una festa straordinaria, questa anima non sempre sentirà queste note deliziose perché il Signore non vuole illuderci e non permette neanche che noi ricadiamo nell'orgoglio e nella presunzione, quindi non sempre avremo come sentimento sentiremo questa gioia, questa festa, ma in certi momenti della nostra vita se davvero facciamo un cammino di penitenza sentiremo anche queste note straordinarie che ci sostengono nel nostro cammino verso il cielo, quindi l'importante è veramente questo, la dimensione della penitenza e del ritorno a Cristo, il farci, il permettere che questo pastore ci ponga sulle sue spalle senza pretendere di essere noi i protagonisti del cammino di ritorno, come noi eravamo i protagonisti il cammino di allontanamento, ci siamo persi per strada, così il ritorno sarà Gesù a portarci, ma noi dobbiamo essere doci di lasciarci condurre e a godere di questo sostegno quotidiano. Sia lodato Gesù Cristo.